È stato presentato in conferenza stampa giovedì 11 aprile a Segusino il documentario Marmolada 030722. Diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, il film commemora la tragedia avvenuta sul massizio della Marmolada due anni fa. Ormai è qualche anno che collaboriamo appunto con la casa di produzione Cineblend che prima con Fucilateli, poi con Gino Soldà e adesso con appunto questo docufilm Marmolada dimostrano di saper interpretare e raccontare benissimo il nostro territorio rappresentandone anche i protagonisti. Quindi diciamo le amministrazioni comunali oggi siamo a Segusino ma anche gli altri comuni ci hanno creduto, l'IPA ci ha creduto e quindi abbiamo dato sostegno appunto come IPA delle terre alte a questo progetto e siamo ben felici di ospitare oggi questa presentazione. Ho deciso di lanciare la distribuzione del documentario Marmolada 3 luglio 22 qui a Segusino perché la persona, nella persona del sindaco Paolone è stata la prima assieme al sindaco di Valdobiadene ad aver creduto nel progetto Marmolada fin dall'inizio, fin proprio dallo sviluppo del progetto e siamo legati inoltre come Cineblend a Segusino perché abbiamo realizzato nel giugno 2021 le riprese della fiction del nostro ultimo lavoro, il docufilm Gino Soldà Una vita straordinaria e questo lavoro è legato proprio a come è nata poi l'idea, come è stata sviluppata l'idea del documentario Marmolada. Ho avuto l'onore di conoscere una persona che lì ha perso la vita, ma abbiamo anche avuto la possibilità di vivere da pubblico quegli eventi e quindi con tutto quello che in quei giorni telemediaticamente veniva detto, con polemiche, con contestazioni, con altro e all'inizio non volevamo realmente dedicare qualcosa alla Marmolada. Poi ci siamo fatte tutta una serie di domande, ci siamo detti e abbiamo capito cosa significa fare un numero di emergenza e quante persone si mettono in gioco. gratuitamente rischiando la vita per un incidente in montagna. I ragazzi che hanno perso la vita in Marmolada erano dei grandissimi professionisti, degli esperti, delle persone che vivevano la montagna e la insegnavano agli altri e quindi abbiamo ritenuto doveroso, sapendo che i soccorritori che erano lì stavano cercando anche gente come Paolo, che era dei loro, dedicare questo documentario per raccontare cosa significa uscire di casa con la probabilità di non rientrare per salvare qualcuno. Questo è un po' il motivo che ci ha spinto a raccontare questa storia. Man mano che salivamo la centrale operativa ci aggiornava e il numero saliva. Mi sembra che ci avessero comunicato una ventina di persone. chi è intervenuto subito a rischiato del proprio? Marmolada 3 luglio 22 è nato da una chiacchiera fatta durante il set del nostro precedente documentario Gino Soldano, una vita straordinaria con la guida alpina Paolo Dani che con noi ha realizzato le riprese in parete tenendoci in sicurezza e agliettandoci anche con i suoi racconti sulla montagna e sul soccorso alpino. Lui ci aveva strappato una promessa che saremmo riusciti ad andare in montagna insieme perché aveva l'intenzione e la voglia di farci conoscere quel mondo dei soccorsi che a lui era molto caro. Purtroppo quel 3 luglio il crollo della marmolada non ci ha permesso di realizzare questa cosa e da subito c'è stata l'intenzione di rendergli omaggio con qualcosa che avesse un grande significato per noi e per lui e quindi abbiamo deciso di raccontare cosa è accaduto in marmolada sotto il punto di vista dei soccorsi. Quindi valorizzando tutto quello che è stato fatto e il grande mondo dei soccorsi che ogni volta che succede qualcosa sono a disposizione. Questo docufilm in particolare ha una componente emotiva molto forte che ha toccato tutti, me compresa dall'inizio, nonostante appunto territorialmente non sia localizzato appunto qui però di fatto siamo molto vicini, siamo ai piedi delle montagne e questo tipo di vicende toccano noi tutti nel profondo quindi da subito abbiamo voluto appoggiare e sostenere anche questo progetto. Siamo partiti da qui proprio per lanciare la distribuzione di marmolada 3 luglio 22, attualmente il documentario è in selezione nella categoria orizzonti vicini al Trento Film Festival, verrà fatto vedere lì il 29 di aprile alle ore 19 presso il Cinema Vittoria in anteprima nazionale, poi dal 7 di maggio inizieremo tutti gli eventi di presentazione partendo con una particolare attenzione nel territorio Veneto in particolare nelle province di Treviso e di Vicenza che sono state purtroppo quelle più coinvolte e interessate perché interessate dalle vittime e purtroppo della marmolada. Le prime date proprio di presentazione saranno il 7 e l'8 di maggio al Cinema di Castelfranco Veneto in collaborazione con il CAI di Castelfranco. Quando vedi le persone sui chiacciaio che si muovono devi andare, no? Però il rischio è un residuo molto alto. Quindi adesso posso alpino, ci hanno detto subito se vi chiamiamo bollate tutto e scappate di corsa. Un altro aspetto importante è che abbiamo fatto una scelta di non entrare nella cosiddetta pornografia del dolore, quindi nel far vedere tutte quelle immagini, macre, nel assecondare quel tipo di ricerca. Abbiamo scelto di stare su un piano prettamente emozionale cercando di capire cosa hanno provato le persone che erano lì, senza necessariamente usare nulla di più che i loro volti, i loro sorrisi, i loro incepamenti, i loro occhi che esprimevano tutto il dolore che hanno vissuto. Considerando che gente che ha fatto veramente un sacco di interventi in tante situazioni emergenziali importanti come Amatrice, come Rigopiano, come casi di cronaca veramente importanti, tutti ci hanno comunicato che Marmolada ha segnato profondamente per sempre la loro vita perché lì hanno provato il vero senso del dolore nel vedere cosa era accaduto. C'è una battuta che viene fatta da uno di loro nel documentario che è abbastanza significativa, che è quello che hanno visto su quel ghiacciaio, un po' quello che si è visto a Nasseria. Quindi questa è abbastanza un'immagine che può far capire cosa hanno provato. Abbiamo scelto di non coinvolgere direttamente tramite delle interviste i familiari delle vittime per un grande senso di rispetto del loro dolore e delle vittime stesse. Abbiamo cercato di raccontare la loro emotività e quello che hanno vissuto in quei giorni tramite le parole di chi gli è stato accanto.